bentornati amici oggi voglio farvi vedere qual è il mio flusso di lavoro abituale quando sviluppo le fotografie che ho scattato ora vi faccio vedere questo procedimento su delle fotografie che ho scattato durante il mio tempo libero non per un cliente faccio questo intanto perché le foto sono di meno e poi perché ci sono più situazioni qui dentro quindi possiamo divertirci un pochettino di più normalmente quando scatto per un cliente non uso tante tecniche diverse tutte insieme qui ho usato un po di hdr un pochettino di tempi lenti insomma ho fatto più cose che si possono fare durante una giornata ordinaria quando si scatta da un cliente ovviamente non c'è modo di usare tutte queste cose di solito si fa una sessione di ritratto piuttosto che una sessione di interne una sessione di foto still life e si fa solo quello andiamo a vedere siamo dentro al modulo di sviluppo di camera raw la prima cosa che io faccio seleziono tutte le immagini e vado ad applicare il mio preset che è mio non l'ho scaricato da nessuna parte me lo sono fatto io in base alle esigenze della mia camera e della resa che voglio ottenere quindi questo sostanzialmente è l'unico preset che sto usando in questo momento è l'unico che mi sono caricato pur dei miei perché poi preferisco andare a giocarmela a mano andiamo a vedere che qui abbiamo una serie di immagini di cui probabilmente qualcuna sarà in hdr adesso bisogna ricordarsi quali per esempio questa è sicuramente una sequenza hdr perché come vedete con l'esposizione normale la camera faceva già un po fatica a catturare tutte le sfumature di questa scena per cui sono ricorso all'hdr quando ci ritroviamo con una sequenza hdr andiamo semplicemente a selezionare le tre foto della sequenza tasto destro e gli diciamo unisci come hdr questo metodo che ho già fatto vedere in un video precedente è veramente secondo me il migliore perché ci consente di lavorare sui negativi digitali e ci consente di andare a creare un quarto file che è un negativo digitale che sarà la somma hdr di queste tre quindi ci consente di ottenere il risultato veramente migliore possibile lasciamo abilitato allinea immagini e io gli dico applica impostazioni automatiche perché di solito mi facilita nel senso che ci va veramente molto vicino ghosting lo mettiamo basso perché qui non c'è praticamente niente che si muoveva e abbiamo già usato l'allineamento automatico io gli dico unisci ed ecco che lui mi va a chiedere se voglio creare un nuovo file e nominarlo in questo modo io le nominavo già così anche io nel senso che davo il nome della prima foto della della sequenza e aggiungevo trattino hdr qui abbiamo un dng invece di un raw ma tanto va benissimo lo stesso è comunque un negativo digitale adesso questo negativo digitale viene importato automaticamente all'interno della nostra del nostro modulo di sviluppo quindi ce ritroviamo qui quello che facciamo adesso è che andiamo a svilupparlo la differenza tra questo metodo e lavorare invece sui jpeg è che qui abbiamo la possibilità di intervenire localmente in maniera molto più precisa perché stiamo lavorando su un dng e quindi possiamo maltrattarlo possiamo fargli quello che vogliamo io qui vado ad aumentare un pochettino la clarity vado magari nella sezione dei colori perché voglio tirare un pochino fuori il cielo come vedete cerco sempre di stare ligio alla regola che io stesso ho coniato del 20 per cento qui sforo un pochino ma fa niente di solito se si sta entro il 20 per cento per qualsiasi modifica si ottiene un risultato più realistico se si eccede si cominciano a vedere i segni dell'intervento che abbiamo fatto e dipende dal tipo di fotografia che state facendo ovviamente perché se volete fare una roba chiamiamola creativa sapete che io quando uso il termine creativo lo dico quasi sempre con un'eccezione negativa se volete fare i creativi fate così secondo me non è un buon risultato per cui lo elimino immediatamente a me così non piace io preferisco una cosa del genere è più vicina alla scena che avevo davanti è meno brillante è meno wow pazienza è la scena che avevo davanti non è tanto per una questione di ingannare gli utenti o cose del genere è proprio per me io voglio avere un ricordo della giornata e quindi voglio che i colori siano il più fedele possibile a quello che erano effettivamente non solo ma questo vale anche nel caso di un lavoro se io sto facendo un lavoro penso che anche il mio cliente vorrà che i colori siano più fedeli possibili alla realtà che sia una sessione di ritratto una sessione di still life non penso che mi chiederà di stravolgere completamente i colori di quello che ho ripreso altra sequenza hdr andiamo a fare esattamente la stessa cosa questo metodo è molto valido secondo me anche perché mi garantisce la possibilità di eliminare gran parte dei miei negativi digitali che pesano parecchio io qui ho fatto una sequenza hdr ho scattato tre immagini dopodiché però una volta che le ho miscelate in questo modo posso buttare via i tre row di partenza e posso tenermi solo questo dng perché questo diventa il mio tesoretto che io posso tenere e andare a sviluppare successivamente anche in un altro momento posso andare a correggerlo esportarlo in un altro modo farne diverse versioni però questa è un'immagine dng che quindi posso tenere come negativo le immagini originali da cui ho ricavato la sequenza hdr non è necessario tenerle anche perché sono meno utilizzabili di questa sono in gran parte dei casi sono completamente inutilizzabili perché la sottoesposizione e la sovraesposizione sono da buttare non vanno bene l'unica che potrei pensare di tenere è lo scatto intermedio ma questa contiene più informazioni quindi queste tre io le vado a buttare via le elimino proprio perché in questo caso non mi servono proprio più anche qui vado a selezionare queste che sono sto sbagliando vado a selezionare queste che sono le tre esposizioni dell'hdr e le butto via perché mi tengo solamente il dng ora andiamo a vedere in fase di sviluppo digitale qui cosa si può fare le impostazioni automatiche mi mettono quasi sempre il contrasto intorno a 6 o 7 io lo tolgo perché non voglio aggiungere contrasto a quella che era la scena voglio semmai intervenire localmente fare delle altre cose ma non mi va di inserire del contrasto in quel modo andiamo a fare il solito giochino io adesso vado a occhio e non sto neanche guardando ma vedete che di solito mi fermo intorno al 20 per 100 perché mi sembra un risultato migliore andiamo un pochino a vedere il prima e il dopo ok questa era prima degli interventi e questo è dopo e non è male dai è un'immagine che se la cava qui abbiamo una complicatissima sequenza che è sia hdr sia panoramica questo è interessante perché ci consente di fare un bel giochino vediamo se ci riusciamo allora devo capire da dov'è che parte parte da qui la mia sequenza perché ho scattato prima una foto e poi mi è venuto in mente che potevo fare questo giochino andiamo a vedere se riusciamo a dirgli con successo unisci hdr come panorama questa è una funzione che è molto complicata e devo dire che a diverse volte non ha funzionato nel senso che l'intelligenza artificiale di photoshop ci prova ovviamente diverse volte devo dire che non ho avuto successo nel montare una sequenza di questo tipo in questo modo nel senso che ho dovuto fare il merge hdr di tutte queste immagini separatamente dopodiché le ho esportate come jpeg a quel punto facendo unisci con foto merge di photoshop a quel punto sono riuscito a montare la mia sequenza però farlo direttamente da qui mi aveva provocato dei problemi questi problemi possono essere dovuti al fatto che ci sono oggetti che magari si muovono quindi tra uno scatto e l'altro l'acqua non è più la stessa e non gli fornisce molti appigli qui c'è un uccello che stava volando che negli scatti successivi non sarà più lì tutte queste cose lavorando su un dng ecco vedete infatti che mi dice impossibile mi dice impossibile ma noi non ci arrendiamo infatti andiamo a fare un'altra cosa andiamo a fare un'altra cosa che a questo punto allora questa la elimino proprio perché questo era era un tentativo di inizio sequenza che poi però ho deciso di scartare io vado a fare questa cosa unisco queste come hdr poi unisco le successive ovviamente dovrò dare gli stessi parametri a tutte perché nel momento in cui vado a fare il fotomerge dovranno avere tutte le stesse caratteristiche quindi adesso non posso più fare il gigione e cambiare troppi parametri mi conviene forse lasciarle così come vengono fuori o con un minimo di differenza ok salviamo la prima ok in un tentativo veramente patetico di farvi credere che in fotografia sia tutto rose e fiori mi sono permesso di andare avanti con la sequenza quindi di non farvela vedere tutta ma di arrivare direttamente al dunque quindi ci ritroviamo con una due tre e quattro immagini dng già convertite in hdr adesso possiamo andare a fare delle correzioni su tutte quante per cui io vado a fare le mie solite miei soliti piccoli interventi sul cielo li faccio uguali su tutti i file in maniera tale che poi non ci siano problemi quando vado a unirle diciamo che così può andare bene diciamo che questo contrasto non lo voglio diciamo che forse facciamo così e diciamo anche che ci siamo facciamo finta che ci siamo adesso quello che proviamo a fare è andare a dirgli merge to panorama a questo punto non stiamo più unendo delle foto hdr e una sequenza panoramica ma stiamo unendo solo una sequenza panoramica e vedete che ancora mi crea dei problemi perché non ce la fa quindi a questo punto sarà sicuramente necessario andare a sviluppare il foto merge di queste immagini all'interno di foto merge in photoshop regolare quindi non all'interno di camera raw qui abbiamo una bella sequenza di immagini con il cigno in primo piano questo cigno che abita sulle spiagge di sirmione ed è molto protagonista secondo me perché si mette proprio in posa abbiamo già applicato il nostro preset quindi io non farei tanto altro cercherei solo di recuperare un pochino di cielo benissimo non ce la faccio perché è troppo bruciato allora gli andiamo a dire solamente questo vediamo se magari così recuperiamo il cielo però scuriamo troppo il cigno niente questo è un intervento che magari faremo a mano direttamente su photoshop sul jpeg però questo è un magheggio che non vi faccio vedere in questa sede questa invece è un'immagine che mi piaceva molto andiamo a unire questo hdr come potete vedere io lo uso molto l'hdr potrei sviluppare il file raw e tirare fuori queste ombre però l'hdr mi permette di lavorare meglio nel senso che mi dà più informazioni ovviamente unendo tre fotografie con tre esposizioni diverse o più informazioni in questo caso sono scene abbastanza statiche non c'è niente non ci sono persone io cerco sempre di evitare le persone non c'è nulla che si muova quindi in questo caso cioè vedete quanto dettaglio in più viene fuori e viene fuori tutto questo dettaglio in più e stiamo lavorando su un file dng che non è ancora pienamente sviluppato quindi mi consente anche di andare a intervenire ulteriormente quindi io posso per esempio tirare un pochino giù e tirare un pochino su cioè questo è un risultato un bel 10 di clarity questo è un risultato che potrei ottenere tranquillamente anche lavorando sul file raw però se avessi lavorato sul file di partenza qui nelle zone di ombra tirerei fuori molto rumore facendo una lavorazione di questo tipo perché andrei a schiarire prepotentemente e tirerei fuori un sacco di rumore nelle ombre che francamente non voglio ora i procedimenti su queste immagini sarebbero grosso modo gli stessi voglio arrivare voglio arrivare al termine della giornata per farvi vedere le ultime cose questa è una sequenza hdr sul tramonto è una delle immagini forse più particolari della giornata quindi ci tenevo a farvela vedere anche perché è un'immagine un po diversa dal solito molto suggestiva con dei contrasti abbastanza netti e qui possiamo vedere che avrei potuto sviluppare il negativo digitale anche qui ho preferito fare l'hdr perché per una serie di motivi intanto perché mi piace di più come rende la fotografia hdr da quando utilizzo questo sistema di merging all'interno del modulo di sviluppo di camera raw trovo che funzioni veramente meglio qui gli diamo un deghosting medio perché qui ci sono le onde che prima non c'erano e qui invece potrebbe essere abbastanza visibile questa cosa quindi cerchiamo di eliminare il più possibile quell'effetto vedete infatti che ci sta pensando un po perché un'immagine un po più complicata rispetto alle precedenti andiamo a dirgli merge attenzione io vi ho detto di eliminare i negativi digitali delle fotografie vere e proprie prima nel caso di un'immagine come questa potreste invece pensare di tenerli perché è possibile che si debba andare a intervenire nuovamente su queste onde magari il deghosting che ho dato non è corretto a seconda del risultato potremmo voler aprire nuovamente i file ok vedete che abbiamo l'immagine io trovo che sia molto ma molto meglio rispetto all'originale trovo che l'hdr gli dia veramente qualcosina in più andiamo a intervenire per modificare qualcosa e renderla più vicina a quella che era la scena che ho visto veramente con i miei occhi quindi fidatevi che era più o meno così le luci erano abbastanza basse il sole stava tramontando l'unica cosa devo trovare una mediazione ok 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 grosso modo era così ora un risultato di questo tipo io lo ottengo più facilmente ormai con l'hdr piuttosto che andando a sviluppare il raw perché paradossalmente ho più informazioni su cui lavorare è un metodo di lavoro che mi piace le sapete cosa vi dico le onde a me sembrano così buone che non ho nessuna paura di eliminare questi tre file perché mi sembra veramente che qui ci siamo mi sembrano belle nitide non vedo nessunissimo problema quindi me la tengo così com'è mi piace ultima cosa che vi faccio vedere che non ha a che fare con l'hdr stessa posizione più o meno questa è un'immagine che volevo assolutamente portarmi a casa e che è venuta assolutamente per caso nel senso che io non avevo il cavalletto con me perché sono pigro e perché non pensavo di trovarmi di fronte a una scena come questa quindi mi sono appoggiato su una ringhiera questa immagine è stata scattata con un tempo di posa di 25 secondi mi pare non mi ricordo più sì 25 secondi esatti a f14 iso 200 come potete vedere ci sono le maree del lago che sono abbastanza fuse perché l'effetto movimento le ha le ha trasformate in immenso mare di seta le nuvole sono appena lievemente mosse perché non c'era tanto vento quindi non si muovevano però comunque un po di effetto mosso c'è un'immagine di questo tipo io ancora non ce l'avevo in portfolio ne sono abbastanza contento anche se non è che sia chissà cosa e c'è l'orizzonte al mezzo che non è neanche dritto perché mi sono appoggiato su una ringhiera quindi la composizione non è chissà cosa però un effetto di questo tipo con un'esposizione lunga approfittando del fatto che era il crepuscolo e che quindi ho potuto giocare come volevo io con la luce perché non c'era il sole di mezzogiorno era una cosa che ancora non avevo su un soggetto di questo tipo quindi sono abbastanza contento di questa immagine e adesso andiamo giusto a dargli un paio di correzioni sempre per renderla più vicina a quella che era la scena che ho visto veramente con i miei occhi che me la ricordo perché l'ho vista ieri e quindi me la ricordo abbastanza bene ok siamo su un qualcosa di questo tipo vediamo il prima e dopo si direi che è abbastanza vicina a quella che era la scena così come l'ho vista adesso io non vado a esportare tutte queste immagini perché le esporterò dopo aver applicato la post produzione che pur non vi faccio vedere su tutte ma la farò su tutte a meno che io non le butti via cioè le cose sono due o le butto perché sono sbagliate oppure la post produzione mi tocca però una cosa che voglio assolutamente provare a fare è esportare queste immagini qua quelle di cui volevo provare a fare l'unione in fotomerge perché voglio vedere se ci riesco e se non ci riesco che è possibilissimo perché io potrei aver sbagliato in fase di ripresa se non ci riesco mi sarà utile per capire come mai non ci riesco è possibile che io non ci riesca perché è una scena molto ampia e l'ho scattata in orizzontale sempre perché sono pigro ovviamente quando si scatta una scena di questo tipo in verticale di solito la resa è un pochettino migliore perché la deformazione sugli assi orizzontali è minore e quindi fotomerge fa meno fatica io voglio vedere se riusciamo a unire questa scena perché verrebbe fuori un panorama abbastanza caruccio secondo me infatti il mio intento era proprio quello di catturare l'intera scena cosa che non sarebbe stata possibile altrimenti perché lo spazio non lo consentiva si stava su una balaustra abbastanza stretta e quindi ho dovuto accontentarmi di fare le foto in questo modo l'alternativa sarebbe stata usare una lente di altro tipo ma io lavoro quasi esclusivamente col 16 mm ormai perché mi trovo molto bene mi piace lavorare col 16 mm quindi lo uso quasi sempre andiamo a vedere se photoshop ha voglia di unire queste immagini con fotomerge quindi andiamo a selezionare fotomerge dalle nostre automazioni andiamo a selezionare le immagini incriminate eccolo qua io gli dico unisci immagini vediamo se ci arriva con il layout automatico vediamo se capisce quello che voglio fargli fare dovrebbe andare a dare una lettura delle immagini l'intelligenza artificiale dovrebbe cercare di capire in base ai numeri degli scatti c'è una sequenza con dei numeri che si susseguono quindi dovrebbe interpretare il fatto che c'è un panorama io credo di aver scattato da destra verso sinistra che non va mai bene non va bene scattare da destra verso sinistra perché lui preferisce da sinistra verso destra e andiamo a vedere che ce l'ha praticamente fatta nel senso che il fotomerge è riuscito ovviamente è molto deformato come spesso capita adesso andiamo a unire queste immagini così lavoriamo un po meglio e andiamo a stringere un pochino il quadro vado a stringere il quadro per lo meno sulla terra perché sulla terra non voglio dover fare grossi recuperi facciamo una cosa di questo tipo sul cielo poi posso permettermi di giocarci un pochino potrei anche fare uno sky replacement e cercare di tirarla fuori in qualche modo però la terra preferirei che ci fosse adesso facciamo una bella copia vediamo un pochino se riusciamo a riempire questi buchi io faccio riempi in base al contenuto vediamo un po se riusciamo a chiudere questo buco se riusciamo a chiudere almeno questo ci portiamo a casa un po di cielo intero qui abbiamo degli uccelli che risultano un pochino sfocati anche perché non ho usato un tempo di posa da 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 wildlife stavo chiaramente fotografando un paesaggio con un castello che era tutto immobile comprese le nuvole quindi non mi ricordo cosa ho usato ma avrò usato un centosessantesimo con diaframma molto chiuso quindi non era il mio obiettivo quello di beccare gli uccelli giusti e quindi forse dopo andrò a cancellarli perché mossi così non mi piacciono questi qui vanno anche bene però quelli più vicini sono mossi e non mi piacciono per niente andiamo a vedere se a pezzi si riesce magari fare prima l'acqua ecco l'acqua più o meno diciamo che l'hai capita adesso vediamo se mi recuperi le case voglio proprio vedere se mi recuperi le casette col ponte perché se mi recuperi le casette col ponte dopo si può andare magari a cercare di chiuderla questa brutta vicenda ecco fatto ok qui questo è sbagliato perché lì dovrebbe essere acqua chiara ecco vediamo se facendo così riusciamo a portarla tutta a misura ok si è un po storta però questa la possiamo sistemare dopo con il minimo sforzo adesso quello che vorrei fare vorrei andare a raddrizzarlo un pochino e non credo che sarà possibile raddrizzarlo completamente perché è veramente storto è veramente molto storto però trattandosi di una panoramica così ampia e fatta in orizzontale soprattutto credo che ci dobbiamo anche accontentare andiamo a vedere se riusciamo a portarlo un pochino a misura ecco fantastico questo dettaglio se ne va via quindi non devo neanche correggerlo dopo vediamo se riusciamo a warparlo un pochino che poi è un peccato perché lo deformiamo ancora di più così si deforma ancora di più si schiaccia ancora di più proviamo a fare così perché magari dopo quest'acqua la recuperiamo con il livello sotto che ho copiato prima volevo fare questo per tenerla tutta nel quadro però andare ad alzarlo un pochino ok adesso vediamo se riusciamo a recuperare un pochino d'acqua da qui era così poca era così poca peccato peccato allora vediamo se riusciamo a recuperarla dicendogli nuovamente riempi in base al contenuto qui di acqua ce n'è io spero che ce la faccia sapete vediamo come si comporta sì ok c'è un po di righina questa la sistemiamo sistemiamo tranquillamente sto facendolo male eh qui bisognerebbe fare le selezioni in maniera tale che la riga non ci sia proprio io adesso lo sto facendo male che tanto è solo per farvi vedere diciamo che per essere una foto che altrimenti non avrei potuto fare diciamo che è tutto sommato abbastanza dritta qui poi potrei andare con fluidifica a intervenire localmente no però non sono convinto non sono convinto che il risultato sia migliorativo se fosse stato un intervento più piccolo avrei anche potuto pensarci però così credo di essere arrivato al livello massimo che mi potevo aspettare l'unica cosa in più che posso fare è eliminare questi uccelli ok che sono mossi e non mi piacciono non mi dicono niente questi altri magari ci stanno ecco eliminiamo solo quelli mossi ok direi che siamo arrivati al risultato che non tanto che c'eravamo prefissati ma che potevo sperare di portarmi a casa perché questa veduta tutta insieme era impossibile da catturare altrimenti le funzioni di panoramica del cellulare fanno più o meno la stessa cosa avete presente tutti cosa succede avremo comunque una distorsione molto evidente qui abbiamo cercato di gestirla esistono degli strumenti di photoshop per la gestione della distorsione ulteriore però lavorano sul singolo frame qui noi abbiamo fatto un fotomerge io non sono per niente sicuro che lavorerebbe bene su una foto di questo tipo perché è una foto con un formato custom che gli ho dato io perché deriva da più immagini sommate e quindi non ci provo neanche me la tengo così tanto non dovrà mai essere stampata non è un lavoro che mi è stato commissionato quindi io me la tengo in archivio per certe cose mi potrà anche servire è comunque un ricordo mio della giornata mi ricorda mi testimonia i colori e le fattezze che ho visto quel giorno e per un utente meno esperto può anche sicuramente essere una fotografia di viaggio carina quindi una cosa che uno può postare sui social e tenersi lì come ricordo per me no io non credo che posterò questa immagine perché la distorsione che c'è non mi piace però mi dà comunque l'idea vedete io ho scattato da qui dal mezzo mi dà comunque l'idea di quello che era la scena che mi separava dinanzi quindi è un'immagine che credo che conserverò ragazzi con questo è tutto io vi ho fatto vedere qual è il mio flusso di lavoro ordinario quando sviluppo i negativi digitali del mio tempo libero quindi non di quando sto lavorando spero che ci siano stati dei consigli utili spero che abbiate imparato qualcosa e nel caso fosse così vi invito a farmelo sapere e ovviamente a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video